Buongiorno, sono Giovanni Troveano, la nostra attività nasce dal 1996 e abbiamo poi sul territorio di un spersizio, prossimamente anche prendi alla latte. Abbiamo questo centro benessere dove ci avveniamo di questa tecnologia meravigliosa. Ad oggi abbiamo sei cabine, abbiamo otto risorse che si occupano solo della parte benessere, siamo in 21 persone che fulgomiamo questo benessere con l'attività anche di parotiere. Da diversi anni, sono anche oltre dieci anni, abbiamo utilizzato anche le precedenti tecnologie e oggi ci siamo arrivati alla nuova tecnologia. L'efficacia che è straordinaria perché ci ha dato sempre sicurezza e funziona, quindi i clienti la soddisfazione che ci danno in immediata. L'efficacia che utilizziamo da 11 anni. Utilizziamo un clima, un vecchio litro G che è un blu 6. Dopodiché abbiamo utilizzato l'integral. Adesso abbiamo messi allianz. E' un clima, un clima, un clima, un clima, un clima. I nonici che ne sopporti con le tecnologie prendono l'interno del lavoro Il nights mobile alleans ha un forte vantaggio, che è di avere questo tutto. Noi lavoriamo sul tono, sulla qualità della pelle, cosa che secondo me in tutto l'inizio e l'esperienza mancava e neanche neanche non le ricerche. Sì, dopo Allianz abbiamo aumentato le tariffe e abbiamo incrementato maggiormente anche i fatturati e i nuovi primiti. Sicuramente il nostro centro è proprio grazie LFG, andiamo a fare un fatturato maggiore nell'ambito del corpo, io direi 80% corpo. Direi che il nostro cliente è un cliente riguardo, in età che può andare da 30 ai 50 anni, come famiglia e sicuramente maggiormente donne. Sono state tutte entusiaste, hanno messo subito positività e grandi risultati. Se combino sedute rispetto a quelli di prima, come LFG abbiamo un punto maggior risultato, proprio in percentuale anche di centimetre. Allora sicuramente è molto più agevole da utilizzare dal punto di vista tecnico, anche proprio operatrice, è molto piacevole anche la percezione sentita dal cliente, perché sennò abbia un proprio massaggio. E poi è comunque più efficace, ci vuole un menù subito e rispetto a quelli di prima. Allora noi utilizziamo molto LFG sia nell'abito del viso e del corpo, in particolar modo perché i nostri clienti vuole un effetto naturale, un effetto innovativo dove abbiamo un tono, una qualità della pelle, più luminosità. È quello che piace al cliente allo giorno d'oggi. Senti nel nostro centro, il programma che sviluppo c'è il reggito al corpo, sia nell'ambito cosmetico, sia nell'attura domiciliare, sia nell'ambito di miglioratori. Oltre al curato, per me è importante l'attura domiciliare per aiutarci allo sviluppo dell'obiettivo di quelli d'accordo facendo un sito. Le energie ci sono in Vignacopo, e in Vignacopo ragionano il sito con noi, sia nell'ambito corpo che nell'ambito di miglioratori. È proprio parte integrante del nostro centro. Per i clienti consiglio di acquistare la nuova tecnologia di Allianz, perché il nostro istituto ha permesso di prenotare il nostro fatturato, e proprio grazie a questo avremo un per aiutarci allo! Grazie mille! Grazie a tutti! Grazie a tutti